Benvenuti al centro di notizie e gossip. Prima di scoprire le novità del giorno, un mi piace e la vostra iscrizione al canale sarebbero davvero apprezzati. Grazie mille. Non è giusto dare la colpa all'equipaggio, come molti stanno facendo. Io ero lì quella notte e posso dire di non aver mai visto una tempesta così terribile. Anche la mia barca ha subito danni considerevoli, ma fortunatamente è riuscita a rimanere a galla. Così racconta Giuseppe Storniolo, un pescatore di Porticello, Palermo, durante un'intervista con l'ADN Kronos. Quando sono arrivato sul posto, ho visto le imbarcazioni della Guardia Costiera e della Capitaneria di Porto impegnate nella ricerca di uno yacht appena affondato. All'inizio pensavamo si trattasse di una piccola imbarcazione, ma poi abbiamo scoperto che era lungo ben 56 metri. Storniolo, che conosce il mare come le sue tasche, è sicuro che il portellone della barca non sia stato lasciato aperto, come ipotizzato dalla procura. Sebbene al momento sia solo una supposizione, se aveste visto quella tromba marina che si è abbattuta sul porto quella notte, capireste la potenza delle raffiche di vento, aggiunge, tonnellate d'acqua sono cadute in pochi minuti sulla barca, facendola affondare.